Lino nasce dall'osservazione di tanti ragazzi che, esattamente come lui, a un certo punto si trovano a dover capire chi siano veramente, che cosa magari vogliono essere e soprattutto che cosa la società che si trovano ad abitare e in cui devono stringere relazioni, scambiare significati, condividere azioni e pensiero, vuole che essi siano. C'è un'aspettativa enorme da parte della società sui ragazzi oggi, anche sulle persone adulte. In genere l'aspettativa sociale si allarga a un ombrello vastissimo, non parliamo solo di ragazzi. Se consideriamo la società, o meglio la famiglia, un modello in piccolo della società, abbiamo esattamente la situazione di Nino, in cui la sua famiglia ha delle aspettative enormi su Nino, un progetto di vita su Nino che purtroppo non corrisponde a quello che è Nino veramente. Grazie a tutti.